Simone Pazzaia, mister del gruppo Castello, purtroppo stiamo commentando una sconfitta, la prima dopo otto risultati utili consecutivi. C'è molto rammarico per quello che è successo domenica. Sì, c'è rammarico perché adesso ci eravamo abituati bene, venivamo da otto partite, però onestamente è stata una sconfitta meritata perché non abbiamo giocato come le ultime partite, non c'è stato l'approccio giusto, poi ci sono stati degli episodi, vedi il rigore che è sbagliato da noi, però queste sono cose che nel calcio succedono, ma in generale non è stata una buona prestazione da parte nostra, quindi direi una sconfitta a mio modo di vedere meritata. Dicevamo otto risultati utili consecutivi, prossimo turno con il Villa Biagio, detto che Fiumana e Barontini non fanno più parte della rosa del gruppo, il gruppo però non ha nessuna intenzione di tornare sul mercato. No, per adesso no, la politica della società è quella quest'anno di cercare di fare un anno di transizione, cercando di soffrire il meno possibile, dando fiducia a questi ragazzi che gli è stata data anche l'anno scorso. L'anno scorso di questi tempi la società ha fatto una scelta, ha dato fiducia a dei ragazzi, purtroppo poi tutti sappiamo come è andato il campionato scorso, però si è deciso di ripartire da questi ragazzi e anche adesso di dar fiducia a loro. Fino adesso tutto sommato il campionato per quelli che erano gli obiettivi è stato positivo, però chiaramente noi dobbiamo cercare sempre di migliorarci e di fare il meglio possibile. Siete in una posizione di classifica tranquilla, però la tua è una squadra che vive di stimoli, bisogna sempre cercare di giocare con il coltello fra i denti perché in questo campionato puoi vincere con la prima, puoi perdere con l'ultima e questo è un po' quello che sta succedendo al gruppo Castello. Sì, è quello che succede a noi, ma succede un pochino a tutte le squadre, perché è già successo che magari l'ultima ha battuto la prima, quindi è un campionato molto equilibrato, evidentemente la differenza di valore tra una squadra e un'altra è minima, sono gli episodi molte volte che fanno la differenza, e quindi proprio per questo bisogna fare attenzione perché è vero che siamo in teoria tra i punti dei play-off, ma siamo anche tra i punti dai play-out e quindi diciamo che da qui in avanti ci sarà tutto da giocare e ci auguriamo che noi possiamo recitare un ruolo importante, ma ripeto bisognerà comunque stare molto attenti perché il pericolo è sempre dietro l'angolo. Grazie.